we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite più precisamente la patch 12.60 che arriverà questa settimana finalmente vi farò vedere delle immagini incredibili appena caricata nei file di gioco e parleremo anche di un nuovo torneo ma prima vorrei vorrei ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop col mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere il mio video news ma allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi perché è un argomento bello scottante si parla dell'agenzia essi ragazzi con una grande sorpresa da parte di tutta la community si sono confermate delle immagini e ne sono state aggiunte altre riguardante il futuro dell'agenzia già qualche giorno fa vi avevo fatto vedere una bellissima foto che mostrava l'evoluzione dell'edificio stesso che probabilmente vedremo nella prossima season ma come vi anticipavo nel pomeriggio di ieri guardate che cosa è stato inserito nei file di gioco un tweet ci dice che durante appunto il pomeriggio di domenica nella pass 12.60 troveremo delle modifiche all'edificio principale e guardate un pochettino è sì ragazzi la conferma arriva proprio l'agenzia verrà presa in possesso dalla fazione delle ombre ora si potrebbero aprire un casino di teorie su questa cosa perché le ombre e non gli spettri ci sarà ancora mida che cosa succederà all'agenzia innanzitutto vi faccio vedere delle altre foto come vedete qua siamo su una delle delle parti laterali si vede chiaramente appunto la bandiera sventolare con il logo dell'agenzia tra l'altro una piccola cosa è stato rimosso dai file di gioco il logo o meglio il disegno del poster dove c'era deadpool sopra l'agenzia quindi un altro dettaglio che ci fa capire quanto questo supereroe ci sta piano piano lasciando nonostante sia rimasto bello attivo per un bel po di questa season ma guardate la parte frontale dell'agenzia stessa come vedete un bel logo stampato lì davanti fa capire appunto che probabilmente se ne parlerà ancora tanto anche nel futuro qua siamo invece dove c'è la statua principale che vedete ha inciso sulla palla frontale il logo che c'è anche sul petto della skin oro perché c'è tutto un altro dibattito sul discorso oro e mida abbiamo capito che sono due skin diverse abbiamo tirato un miliardo di conclusioni ma il logo già presente nel nella season 1 di questo capitolo 2 non so se ricordate che al posto dell'agenzia nell'isola c'erano quelle case dove poi alla fine arrivarono gli oggetti dorati dovrebbe essere appunto anche una cosa che dovrà farci pensare per quanto succederà ovviamente e poi viene confermato il tutto da questa che è stata la prima immagine liccata e si parla secondo me oramai di tre settimane fa dove oltre a vedere dei dettagli interessanti ci sono proprio dei particolari che non possiamo tralasciare non si è mai capito se arriveranno oppure no come vedete molti dettagli dell'agenzia sono proprio d'oro quindi le bandiere nere ce le abbiamo però non mi sembra proprio il logo come vedete delle ombre bensì è il logo di oro potrebbe addirittura essere un'immagine di quello che succederà dopo che l'agenzia verrà presa dalle ombre e quindi oro appunto con il potere che ha di toccare potrebbe trasformare piano piano lentamente tutta la struttura in metallo prezioso quindi ragazzi tanta roba sta per arrivare ovviamente tutti ci aspettiamo quest'ultima patch della season 2 di questo capitolo 2 che dovrebbe essere bella corposa anche se sappiamo che poi settimana prossima arriverà la 12.61 che introdurrà forse le overtime challenge e comunque dei dettagli finali dedicati anche all'evento che oramai è imminente e andiamo avanti a parlare di un altro argomento importante perché se andate sulla pagina ufficiale di fortnite troverete la possibilità forse ancora oggi di registrarvi alla standard skill cup è un torneo dedicato solo ed esclusivamente ai giocatori da console ps4 nintendo switch xbox inizierà domani come vedete alle 20 e la cosa interessante è che è aperto a tutti come vedete abbiamo già 73.135 iscritti aggiornato indicativamente a mezzanotte di domenica per quanto riguarda invece la possibilità di fare i punti lo score 3 punti per ogni vittoria raggiungere la top 10 altri 3 punti la top 20 la top 30 la top 40 e fino alla top 90 darà 3 punti ogni eliminazione 2 punti questo torneo perché è molto importante perché apparirà un messaggio noi ovviamente già l'abbiamo visto o meglio ve lo sto per fare vedere perché lo hanno già inserito nei file di gioco e il messaggio sarà proprio questo ragazzi noi stiamo questo è quello che vi dico che c'è scritto noi stiamo programmando un test event sul nuovo aggiornamento prova a raggiungere la top della leaderboard quindi ragazzi un input in più per cercare di darsi da fare e appunto raggiungere i piani alti su questo torneo che ovviamente verrà anche bello farcito di un test che non sappiamo cosa sia ma ci auguriamo che sia qualcosa di veramente divertente e andiamo a parlare del prossimo argomento di oggi perché prima di salutarlo definitivamente io vi invito ragazzi a fare un bel controllo su quanto Deadpool sia stato importante per questa season oltre ad averci regalato la skin con lo stile ci è stato regalato anche un backpack meraviglioso la copertura le loading screen gli spray e tanta roba però in realtà nessuno ci ha fatto caso che Deadpool stava violentemente spoilerazzando quello che potrebbe succedere nella season 3 di questo capitolo 2 sono oramai settimane che lui è bello lì fresco che gioca a Fortnite totalmente immerso nell'acqua questo è assolutamente associabile a quanto già sappiamo anche perché quando ci sarà il doomsday event sappiamo che potrebbe succedere qualcosa che andrà storto e quindi il livello dell'acqua verrà innalzato e io sono pronto a scommettere che probabilmente quei meccanismi intorno all'agenzia centrano qualcosa con il malfunzionamento della macchina stessa e quindi la non riuscita del piano di mira insomma ragazzi anche per oggi tante notizie siamo tutti qua in attesa della patch 12.60 che forse arriverà o domani o mercoledì io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao